Buonasera, buonasera, benvenuti, in realtà siete voi che dovete dirlo a noi perché siamo arrivati dopo, ma che dire, la quarta, no non è la quarta, è la terza volta che ci troviamo qua nel giro di pochi anni al circolo dei lettori per presentare un libro di Beatrice Mautino. Grazie, buonasera. Buonasera a voi e a chi ci guarda dalla saletta di fianco. Abbiamo conquistato la sala centrale perché le altre volte eravamo in sala gioco e tra l'altro hai fatto più presenze tu che Djokovic alle finali ATP, sala gioco, dovevano essere quattro addirittura, la quarta è saltata per via della pandemia sulla quale non citiamo Djokovic perché non è un grande esempio. Allora, gli altri tre erano, il trucco c'è e si vede, li so e pensa che non li sa, però c'è comunque scritto anche qua, quindi è più facile. No, allora la scienza dei cosmetici era il secondo, quello che entrava un po' perché era la scienza nascosta dei cosmetici, perché il primo era quello un po' più sul marketing, sulla comunicazione legata ai cosmetici, il secondo invece entrava un po' più nel dettaglio della scienza e la tecnologia che c'è dietro ai cosmetici, il terzo si allontanava ma non troppo, è naturale bellezza, perché comunque parlava della dicotomia diciamo naturale artificiale che c'è e non c'è, non c'è o c'è poco e però anche lì i cosmetici c'erano e adesso Beatrice ci regala la scienza dei cosmetici che non è neanche un riassunto, naturalmente riprende molte delle cose che già sono state trattate, è un aggiornamento rispetto ai temi che già sono usciti allora, quello che cambia e per il quale vale la pena comprarlo, così l'abbiamo detto, è la struttura del libro, cioè come è organizzato, perché Beatrice in questo terzo, quarto, insomma Allora io le altre le ho fatte da sola, ma alla fine non era neanche andata male a farle da sola, ma hai detto non ho voce, vieni a fare, l'unica cosa che mi ero preparato solo l'inizio, adesso chiedono i soldi indietro, del libro, del libro, no allora in questo libro che ci regala appunto, quello che cambia, la struttura Beatrice è abbandona, avevo pensato questa frase, abbandona almeno in parte la forma, come dire, dell'inchiesta e del saggio per invece abbracciare quella del manuale, del manuale sistematico diviso per capitoli naturalmente, ma nel quale potete andare a cercare gli argomenti quasi come se fosse un'enciclopedia, cioè grandi temi dalla pelle, i capelli, i solari eccetera e poi anche ancora più nel dettaglio vedere le singole cose, ogni capitolo ha le sue bufale, i suoi miti, leggende che Beatrice racconta, ci dice che cosa hanno di vero e che cosa no, quasi poco, no ma non è detto, ogni tanto qualcosa di vero c'è, sì, ci parla dell'inci, qua volevo fare la battuta sull'incipit ma non ho pensato come farla, quindi non funziona, vedi non la faccio, ci dà dei consigli pratici, ci parla del fai da te, insomma di cosa fare e soprattutto cosa non fare a casa, ma lo sapete già perché se la seguite sapete che poi lei tutte queste cose le racconta giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, adesso mi sono perso, mi ero preparato solo fin qua, no allora, questi cosmetici alla fine, una cosa che ho capito, ma già dall'inizio insomma, non entrano in profondità nella pelle, addirittura partiamo con una roba semplice, va bene, addirittura evaporano, cioè ma alla fine non servono a niente, no, no, hai un'altra domanda? No, no, questo è l'incubo del moderatore, non lo so, allora va bene, intanto buonasera, grazie di essere venuti qui, grazie Alberto che fa lo scemo, però non lo è, almeno credevo che non lo fosse, è sempre un piacere, siamo soci da, non so, mille anni, per cui insomma posso permettermi certe cose, come diceva Alberto questo è un libro diverso dagli altri, molto concreto rispetto ai precedenti che erano, nella mia testa erano concreti poi, nella testa di chi li leggevano, delle belle storie, insomma molto raccontate, però poi alla fine mi chiedevano sempre, si va bene, ma che cosa devo scegliere, no, cioè dimmi cosa comprare, non dico che cosa comprare, però do gli strumenti per capire un po' più nello specifico che cosa comprare, ma adesso ti rispondo. Le chiavi per entrare nelle stanze della conoscenza, non so come mi è venuta questa... Come diceva Piero Angela, esatto. L'ha detta un attimo fa nel video che ha registrato. Alberto è partito da una cosa abbastanza, insomma, adesso vorrei dire divisiva, polemica, anche se poi mi sembrava sciocchezze rispetto a tutto quello che sta succedendo nel mondo, quindi insomma ridimensioniamo un po' tutto. Una delle cose che ho raccontato nel libro e che ho raccontato in un mio video recente su YouTube è appunto questa cosa che a me sembrava una roba scontata, no, cioè sai di quelle cose che ci va, faccio un video, racconto una roba che tutti sanno e va bene, porto un video a casa, no, e boh, invece è successo il finimondo e io ho raccontato questa cosa che è l'acido ialuronico e tutte queste cose che ci dicono che penetrano in profondità, però l'acido ialuronico è quello che in assoluto, no, cioè sempre tutte le pubblicità si vedono addirittura i disegni di queste molecole di acido ialuronico che entrano nella pelle, no, si fanno largo e vanno giù in profondità e io ho detto, quella roba lì non può penetrare una molecola gigantesca, veramente enorme e non può penetrare in profondità. L'acido ialuronico funziona da fuori, quindi sta lì, un po' come assorbe tantissima acqua, pensa che un grammo di acido ialuronico assorbe sei litri d'acqua, è una roba senza senso e vabbè un grammo di polvere di acido ialuronico è tanto perché è molto leggero e comunque lui sta lì, assorbe l'acqua tipo spugna, per cui è come mettersi una spugna bagnata sulla faccia, no? E quindi te la tiene umida e il suo lavoro lo fa, fa quella roba lì, tiene la pelle umida e quindi idrata ma dall'esterno, non ha bisogno di entrare in profondità, non lo deve fare, il suo lavoro lo fa da fuori. Sarebbe anche un problema se entrasse. Probabilmente sì, ma comunque non ce la può fare perché è troppo grosso, non può proprio entrare. Quando ho detto appunto questa cosa, in realtà io l'ho detta in due momenti, nel senso che l'avevo detta un anno fa più o meno al Cosmoprof che è la fiera dei cosmetici più importante al mondo che si fa ogni anno a Bologna a marzo e io ero stata invitata a fare una plenary, quindi una conferenza plenaria davanti all'Assemblea di Cosmetica Italia che è l'associazione di categoria delle aziende cosmetiche. Quindi ci avevo davanti a me 200 aziende cosmetiche, da L'Oreal 30 miliardi di fatturato all'ultima, di quelle piccole insomma, quindi avevo veramente tutto lo spettro delle aziende e io ho fatto questo racconto, mi sono detta cosa gli racconto io alle aziende, che sanno tutto giustamente perché li producono. Ho detto l'unica cosa che posso fare è dirgli di piantarla lì questa storia dell'acido ialuronico che penetra perché è un problema anche per loro questa roba qui. Perché? Perché se tu dici che l'acido ialuronico e il collagene e la qualunque per funzionare devono penetrare in profondità, poi dopo che cosa ti inventi? Perché hai alzato l'asticella, no? Quindi prima i cosmetici facevano delle robe e adesso penetrano tutti in profondità. Al prossimo giro agiranno sul DNA, poi dopo avremo i cosmetici quantistici, cioè alziamo continuamente, forse ci sono già tra l'altro, alziamo continuamente, no ma siccome ci sono, alziamo continuamente l'asticella, no? E' una rincorsa che non ha una bella fine questa roba qui, cioè fermatevi lì, è chiaro che una singola azienda non può dire no guardate che i miei cosmetici, le mie creme, l'acido ialuronico non penetra perché altrimenti tutte le altre lo dicono e questo si ritrova col cerino in mano. Io comprerei e però tutti gli altri no. Però se tutti, no? Se tutti vi metteste d'accordo e facesse questa roba e facesse un passo indietro, allora forse riusciremmo a cambiare le cose. Ho fatto una roba anche un po' motivazionale, no? Allora ho ricevuto un applauso scrosciante da due terzi diciamo così della sala, che era il settore tecnico. Adesso non so se qua c'è qualcuno che lavora in un'azienda cosmetica, in genere c'è. Potete dirlo, non è… C'è qualcuno? No, magari nella saletta di là. Settore tecnico, applausi, no? Così. Un terzo era più o meno il marketing, sopracciglia alzate, robe così. Poi dopo nelle chiacchiere al rinfresco sono venuti lì quei tecnici a dirmi, eh noi ci proviamo a dire sta roba, no? Però, però niente, non ce la possiamo fare. Perché? Perché ormai la comunicazione è tutta su quel filone lì e quindi chi è il primo che parte? Cioè dovrebbe farlo davvero l'Oreal, no? I più grandi, no? E poi dare il buon esempio, però non lo fanno per mille motivi e quindi alla fine siamo incasellati in questa roba e non ne usciamo. Io faccio questa cosa, poi dico, vabbè, l'ho detto a tutte le aziende e posso dirlo anche al pubblico, no? Quindi ho fatto sto video dove ho raccontato questa cosa di finimondo, no? Però… Sei una terra piattista della biologia. Sì, mi ha detto questo, sei una terra piattista della biologia. Perché dicevo una roba che però è ovvia, cioè che non possono penetrare e però la reazione di fronte a questa cosa che tra l'altro io ho previsto, perché l'ho proprio detto nel mio video, no? Ho detto se io vi dico questa cosa, dopo che per anni ci hanno martellato questa cosa che penetrano, 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 eccetera, nel momento in cui arriva qua la Mautino a dire che non penetrano, il primo pensiero è e allora non funzionano. Ci hanno fregati. Ci hanno fregati, quindi niente funziona, no? Perché poi si passa al niente funziona, buttiamo via tutto, no? Rabbia e cose cose, no? Non è vero, no? Così. Che io lo capisco questa cosa, è una reazione, come dire, naturale, no? Cioè ti dicono una roba, io te la smonto e quindi ti arrabbi, cerchi di buttare via tutto. Però secondo me queste cose qua invece vanno dette. Perché? Perché bisogna ritornare con un minimo di aderenza alla realtà, no? Perché altrimenti davvero si fa quel gioco di continuare ad alzare la sticella che non fa bene a nessuno. E invece direi che i cosmetici possono funzionare lo stesso, anche se non penetrano in profondità e che quando qualcosa penetra, perché poi qualcosa può penetrare, le molecole più piccole, quelle che hanno una struttura molecolare di un certo tipo che si infila in questi buchi, no? Della barriera della pelle. Quando penetra e finiscono in circolo è una grana, è un problema. È successo, non so, l'alluminio nei deodoranti. Hanno dovuto fare un sacco di test per capire che quelle quantità che penetravano non erano pericolose, non erano rischiose. E test con alluminio radioattivo messo sotto le ascelle con dei volontari per capire dove gli andava a finire, cioè robe così, no? Allora, quando una roba penetra, magari è un bene, no? Perché magari ti fa delle azioni, però c'è sempre anche la controparte, no? Che tu devi verificare che non sia anche un male. Invece se sta fuori, sta fuori e fa tutto quello che deve da fuori. Sono i più belli quelli che stanno fuori e lavorano da fuori. Allora, io ho questa mia missione, di missione, l'ho detto un po' che si ferma. Che si ferma. C'è un simboletto di tipo io non posso entrare, una roba così, però ci sono anche un po' queste cose qui che cercano di smontare un po' queste false convinzioni che ci ha messo il marketing e in cui si sono trovati lì e adesso non sanno più come uscirne. Cioè, messo da parte quello, parliamo delle cose serie. Esatto. Ma come ti è venuto di occuparti di cosmetici? No, perché il libro, cioè possiamo parlare dei temi del libro, lo facciamo, ma c'è tutto scritto nel libro. Invece qui avete l'autrice. Queste sono delle frasi che si dicono sempre, insomma, però dopo quattro presentazioni non sappiamo neanche più noi che cosa dire. Però è vero, cioè come hai iniziato a occuparti dei cosmetici, nel senso, noi sappiamo che lei è biotecnologa, dottorata in neuroscienze, ha iniziato praticamente da subito, quando faceva ricerca, a fare anche divulgazione, poi ha abbandonato la ricerca, si è dedicata alla divulgazione scientifica e si è occupata di tantissime cose e a un certo punto però sei finita sui trucchi. Sì. Le cremine. Le cremine. Allora io sono finita sui trucchi più o meno tra il 2015 e il 2016. Io avevo scritto un libro con Dario Bressanini che si chiama Contro Natura, che parlava, parla, il libro è ancora in vendita, non qui ma comunque c'è, parla di cibo, di agricoltura, un capitolo per ogni alimento e molto di biotecnologie, di OGM, di robe del genere. Sono una biotecnologa quindi insomma arrivo un po' da quel mondo lì. In quel periodo mi sono detta, vabbè, il settore degli alimenti è già coperto da Dario, quindi non è che posso sperare, come dire, di trovarmi la mia nicchia. Volevo cercare un qualcosa in cui infognarmi. Io sono una che un po' tipo Tana del bianconiglio, quando trovo un argomento mi infilo e voglio andare giù a fondo, insomma mi piace scavare, cercare di capire. Era un periodo in cui mi sono detta ma magari parlo di vaccini, perché era un periodo in cui si iniziava a parlare e poi ho detto ma chi vuoi che gliene freghi dei vaccini, c'è questa idea. Vabbè, poi in realtà non mi sono pentita perché tra le cremine e i vaccini devo dire che forse ho vissuto meglio con le cremine in questi anni. Comunque in quel periodo giravo molto per supermercati perché stavamo scrivendo questo libro insomma sugli alimenti e quindi cercavamo etichette, diciture, insomma cose che ci dessero degli spunti per il libro e già che eravamo a supermercato insomma io ho iniziato a frequentare i supermercati con un approccio diverso da quello delle persone normali che vanno, comprano e poi vanno via. Io da lì ho iniziato a passare ore al supermercato, a leggere tutto, a guardare, insomma passo le ore e mi diverto. Ogni tanto dico dai vado al supermercato a fare un giro e quindi guardavo le cose degli alimenti e però poi a un certo punto sei lì, che fai? Guardi anche lo scaffale di fianco e quindi ho iniziato a guardare la roba dei cosmetici e ho notato che c'erano molte dinamiche simili. Cioè se nel mondo dei cosmetici, cioè se nel mondo degli alimenti, quello era il periodo del senza olio di palma, vi ricordate che c'era un periodo in cui non c'erano biscotti con l'olio di palma, era tutto senza olio di palma, di là nei cosmetici era tutto senza parabeni, senza solfati, senza siliconi, senza questo, senza quello. Di qui era tutto un con curcuma, quinoa, cioè c'erano tutte queste aggiunte, i beta glucani, non so, la qualunque e dall'altra era con acido ialuronico, questo e quello, anche lì ovunque, questi ingredienti che scrivevano grossi, c'era l'olio di tamanù, non ricordate l'olio di tamanù? C'era, è stato il periodo anche l'olio di, vabbè, l'avocado, quello è un long seller diciamo. E quindi ho detto, ma sono molto simili queste cose, cioè la leva sul senza, quindi sulla paura nei confronti di determinati ingredienti e dall'altro invece il far leva sulle aspettative, su che cosa ti darà sto olio di tamanù, no? Che non ti poteva dare il germe di grano, no? E quindi ho iniziato a guardare in giro se c'erano dei divulgatori, delle divulgatrici che si occupassero di cosmetici e non c'era sostanzialmente nessuno. C'era qualche blog un po' tecnico di magari cosmetologici, non era uno molto famoso nel settore, diciamo, di un cosmetologo in pensione che poi a un certo punto. Ha smesso anche di essere in pensione? No, no. Ha smesso di scrivere? Ha smesso di scrivere? Si è stufatto, mettiamola così, non ha più neanche pagato il dominio, quindi non c'è più un blog. Credo che stia bene, non lo so, l'ultima volta che l'ho sentito stava bene. Comunque, e però non c'era nulla di divulgativo, accessibile, un po' le cose appunto alla Bressanini, diciamo, per gli alimenti e quindi ho detto, ma se non c'è lo faccio io. Lo faccio io. Da totale outsider di questo mondo, nel senso che non sono mai stata un'appassionata di cosmetici, non ho mai ancora tuttora, non so i nomi, l'ultima palette di Huda Beauty. Però guardate la coerenza cromatica. Beh, ma, sì, maron, questa coerenza cromatica è il maron, va bene. Un po' tipo crammer contro crammer, questo lo dico per i più anziani. Non l'ho capito. Mai stata appassionata di cosmetici, mai infilata dentro ai gruppi, forum, queste robe qui, in maniera totalmente incosciente, perché tu arrivi da fuori in un mondo che ha le sue dinamiche, i nomi riconosciuti, no? Tu arrivi da fuori e dici, sapete che c'è? Vi spiego la scienza dei cosmetici, no? E in realtà, però, forse perché sono piemontese, per cui ho comunque un approccio un po' delicato, diciamo, alle cose. Mi sono infilata pian piano dentro, ho iniziato a dire due o tre robe di nuovo che io stavo studiando, insomma, stavo cercando di capire come funzionava questo mondo. Ho iniziato partendo dalle cose più ovvie per me, tipo, tu vedi 18.000 shampoo al supermercato, però alla fine i shampoo sono tre, no? Sono tre categorie. Poi hai mille declinazioni per ogni categoria, però le categorie sono tre e li avevo descritti. Ho detto, sta cosa a me sembrava di nuovo ovvia, però rivelazione, no? Per cui ho iniziato a costruirmi un minimo così di credibilità, di credibilità in quel mondo e alla fine ci ho preso gusto, diciamo. Ho iniziato ad appassionarmi, i nomi delle palette non li so ancora neanche adesso, però in questi anni, mi diceva Alberto, ho scritto tre saggi andando sempre più in profondità nel mondo dei cosmetici, intervistando un sacco di persone che lavorano in quel mondo lì. Ho girato per le aziende, insomma, quindi appunto l'anno scorso ero invitata al Cosmo a fare questa plenaria. Per cui mi sono costruita un mio ruolo in questo mondo qui e da lì, grazie a questa prima, questo cuneo che ho infilato in una crepa che era lì. È da Piemontese. È il cuneo, ma io sono di Ivrea. Grazie a questa cosa sono nate altre figure, insomma altre persone che hanno iniziato a fare divulgazione in questo settore e pian piano si è costruita un nuovo tipo di informazione sui cosmetici, perché prima e anche adesso in realtà il grosso dell'informazione è di tipo pubblicitario, cioè o comunque legato, non so, le recensioni dei prodotti o la promozione della nuova linea o delle nuove tendenze. noi, io e gli altri che sono arrivati nel frattempo, abbiamo mostrato che ci può essere un'informazione indipendente, mettiamola così, sui cosmetici dove cerchi di far vedere le cose che non vanno, che non funzionano, sta roba, il penetra in profondità, smonti un po' di questi miti che si sono creati nel corso del tempo e però poi riporti anche quello che è il vero valore dei cosmetici, dici delle cose che anche lì sono ovvie ma sembrano rivoluzionarie, tipo tutti gli ingredienti autorizzati in Europa al commercio sono sicuri, quindi non c'è da preoccuparsi quando uno va a comprare il cosmetico perché tutta quella roba che c'è dentro è sicura, però la percezione che c'è non è quella roba lì, la percezione che c'è ci spalmiamo le schifezze, il petrolio, le robe. Io cerco di riportare il tutto un po' meno, un po' meno miracoli e un po' meno allarmi, cerchiamo di stare nel nostro e di raccontare le cose per quello che sono. Una cosa che dici spesso è che di fatto tu racconti cose che si sanno già, che si sa dove sono scritte, anzi vai a dire dove si possono andare a leggere e quindi è un po' il discorso di prima del penetra in profondità, ma è inutile mentire su questa cosa, raccontiamoci le cose come stanno. Allora sì, la frase di prima delle chiavi delle stanze sono stanze già aperte, basta dire dove sono. Sono stanze già aperte, il punto è che è difficile trovarle, nel senso che quando tu hai una comunicazione che è tutta mediata dalle aziende o da persone che in qualche modo sono interessate, hanno degli interessi in gioco in un senso o nell'altro, anche c'è tutto il mondo dell'allarmismo che fa molta leva su queste robe qua e poi è difficile districarsi in mezzo a quel casino lì. Adesso parliamo di cosmetici che sono robe frivole e va bene, però vale un po' per tutto il mondo dell'informazione. E' molto difficile capire quali sono le fonti affidabili, dove andare a cercare le informazioni. Io spesso do proprio i riferimenti ai siti delle istituzioni. L'Europa ha il sistema di valutazione della sicurezza dei cosmetici più severo al mondo. Quindi l'Europa è il posto più sicuro dove stare nel mondo se si usano cosmetici. Più sicuro degli Stati Uniti, più sicuro dell'Australia, più sicuro della Corea. In Europa abbiamo sto regolamento che è uno pubblico, 1223 del 2009, dove c'è scritto tutto, cioè tutto quello che si deve sapere sui cosmetici è lì. Quindi è un pdf, non è che uno deve studiare libri, c'è un pdf che stabilisce, viene continuamente aggiornato e stabilisce quali sono le regole che le aziende devono in qualche modo rispettare per poter mettere in commercio dei cosmetici. E poi ci sono delle belle tabelle con migliaia di ingredienti vietati, allegato due. Quindi tutti quelli vietati sono elencati, quelli vietati non si possono usare. Quelli ammessi solo a certe condizioni, quelli magari degli ingredienti un po' più problematici, coloranti, conservanti, filtri solari, che sono quelli che possono dare un po' più di problemi, quelli sono guardati a vista e quindi hanno delle condizioni molto rigide di applicazione, tipo non puoi metterne più di tot. E cioè quel tot è una legge, cioè se tu l'azienda sfori, sei fuori legge. Se sei fuori legge è un problema, cioè vai nel penale. Insomma non è la multa che ti prendi se fai la pubblicità sbagliata, è una roba proprio seria, no? Quindi sono cose appunto, dicevo pubbliche, però sono pubbliche nel senso che sono accessibili a tutti, però non sono così accessibili perché noi i siti delle istituzioni non li frequentiamo, non li frequentiamo perché sono fatti male, mediamente, sono difficili proprio da frequentare, difficili orientarsi, magari sono scritti in inglese, in realtà sono quasi tutti tradotti, però poi non sai dove andare, insomma è veramente complicato e quindi il mio lavoro, il nostro lavoro, per cui siamo colleghi, ma anche se lui non si occupa di cosmetici, però il nostro lavoro è quello di fare un po' tipo le guide nei musei, no? Che ti guidano attraverso un percorso, i quadri sono lì e io ti spiego perché questo è messo prima di quello e magari ti do due elementi per inquadrare sta macchia che vedi sul muro e farti capire che invece è un'opera d'arte, no? Questo approccio all'arte è un po' dissacrante, scusate. Parlavi prima di paure e invece del fatto che in Europa per esempio abbiamo i regolamenti più solidi, i controlli che ci garantiscono che tutti i prodotti sono sicuri. A volte c'è questo meccanismo che scatta per cui il fatto che ci sia un controllo ci fa pensare che allora c'è un problema, succede anche, tanto per citare l'attualità con la carne coltivata sintetica, cioè se stanno indagando questi 25 potenziali rischi, caspita devo preoccuparmi. E c'è un po' il contrario. E no, esattamente il contrario. Dobbiamo essere contento perché poi sperando che facciano bene il loro lavoro, ma insomma si può dire che lo fanno, ci diranno se c'è da preoccuparsi oppure no dopo che hanno fatto l'analisi. Una cosa che è successa nelle ultime settimane, magari l'avete sentita, quella dei sequestri dei cosmetici, erano finiti anche al telegiornale, sui giornali, hanno sequestrato diverse lotti di cosmetici in giro per l'Italia. Io quando ho visto quella notizia ho detto, evviva, meno male, vuol dire che il sistema funziona. Invece la narrazione di quella roba lì era panico, tragedia, aiuto, schifezze. Allora, le hanno sequestrati perché contenevano una sostanza, un ingrediente che è l'ilial, che è un profumo sostanzialmente, che è stato vietato un anno fa, quindi non si può più usare. Ed è in quell'allegato, il famoso allegato 2, che dice questa roba qua tu non la puoi usare. È stato vietato l'anno scorso, però il divieto partiva già da anni prima, in genere quando c'è un divieto la commissione, a meno che non ci sia un pericolo imminente insomma per la salute, da un tempo di adeguamento alle aziende. Il tempo di adeguamento qui era abbastanza lungo perché il problema di questa sostanza, questo profumo, non era legato all'uso nei cosmetici ma era legato al fatto che era ovunque ed è tuttora ovunque, nei detersivi, nei profumatori, nella qualunque. È il profumo di mughetto, quello che si sente spesso in giro. E quindi l'ente regolatore che vigila sui cosmetici ha detto che l'uso nei cosmetici è sicuro perché se ne usa talmente poco che quel poco non provoca un rischio per i consumatori, però visto che lo usano dappertutto noi non siamo in grado di dire che è sicuro in assoluto e quindi per precauzione lo leviamo dai cosmetici. Gli altri enti non hanno fatto la stessa cosa, quindi nei detersivi continua a esserci, nei profumatori continua a esserci, però nei cosmetici non c'è più. E non c'è più per legge dall'anno scorso, che vuol dire che i negozi hanno ricevuto una lettera ufficiale, se c'è qualcuno qua che lavora in un negozio tu lo sa, hanno ricevuto tutta una lettera con l'elenco delle cose dicendo guardate che se avete degli prodotti che hanno questa cosa qui, leggete, gli ingredienti devono essere tutti scritti, dovete smaltirli, insomma ridarli indietro, buttarli eccetera. Molti negozi ovviamente l'hanno fatto, ci sono i negozi che lavorano meno bene degli altri e quindi così come a volte trovi la roba scaduta eccetera e quindi li trovi ancora magari in commercio. A questo punto intervengono le forze dell'ordine, così come intervengono quando trovi della roba scaduta o della roba appunto fuori norma e quindi i sequestri sono sequesti di prodotti vecchi che erano ancora in commercio nonostante un divieto. Allora tutto questo sistema che ti vieta un ingrediente per precauzione, cioè non perché faceva male lì ma per precauzione e che poi ti becca comunque se tu lo tieni in circolazione lo stesso, per me vuol dire che la roba funziona. Poi è chiaro che sarebbe stato meglio che i negozi fuori legge diciamo non ci fossero, però è anche pieno di gente che supera il limite di velocità, però il limite c'è e in questo caso un limite c'è e c'è anche chi cerca di farlo rispettare. Per cui quando io dico che alla fine le robe funzionano e che qua siamo davvero al sicuro, cioè non è che faccio la provocazione, è proprio vero, quando diciamo ma tu a che cosa stai attenta? Ma io non sto attenta a niente perché c'è già chi sta attento per me, non ho bisogno di stare attenta io quando compro un cosmetico, cioè io guardo che mi piace il profumo, a me non piacciono tanti i profumi, che non so che si spalmi bene, cerco di guardare altre cose, non vado a pensare oddio c'è quell'ingrediente lì e quindi niente, se c'è quell'ingrediente lì vuol dire che va bene, è una roba semplice che però è difficilissima da far passare, perché? Perché abbiamo decenni di martellamento, non lui, ma decenni di martellamento di ah sta roba è veleno, è tossico, ci vogliono ammazzare, ma chi ci vuole ammazzare? Ma perché? Questi ci vogliono vendere le cremine, non ci vogliono ammazzare, cioè se moriamo non compriamo più le cremine, quindi perché ci dovrebbero voler ammazzare? Però noi spieghiamo anche l'importanza del senso critico e del dubbio e quindi come la mettiamo? Così una domanda semplice, un minuto che poi chiediamo a loro se hanno… Il senso critico, il dubbio c'è per tutta l'altra parte, cioè andiamo tranquilli sul fatto che la roba che compriamo è sicura, è sicura se l'azienda lavora bene, una cosa che dico sempre è che non so, io non compro i solari da aziende che non hanno una reputazione da perdere, quindi supermercato benissimo, discount benissimo, farmacia benissimo, aziendina che ha il profilo Instagram di 2000 follower e che si vuole lanciare deve crescere, non sa di me, per i solari, perché? Perché io sui solari che devono proteggermi dai raggi uvi eccetera eccetera, ho bisogno di sapere che quell'azienda lì non fa cazzate, adesso dico questa cosa un po' esagerata, per essere sicura che quell'azienda lì non faccia cazzate deve avere un qualcosa da perdere, una reputazione di qualche tipo da perdere, la grande azienda non si può permettere di fare un solare, scrivere SPF 50 e poi farlo 10, perché al primo test che fanno, altro consumo per dire, e lo fa tutti gli anni, altro consumo, sui prodotti principali vengono beccati e perdono la reputazione completamente, non se lo possono permettere, su altre cose meno, rossetto che ne so, posso anche investire, dire vabbè lo provo, però su alcune cose, quindi la serietà e la sicurezza non è tanto nel guardare gli ingredienti, usare queste app che tutti usano e queste cose qui, quanto chiedersi ma sta azienda è seria, no? C'ha qualcosa da perdere, sta lavorando bene, perché le regole ci sono però poi le devono rispettare e però rispettarle è l'azienda che lo deve fare, quindi fatto salva sta cosa che quindi non mi devo fissare sull'ingrediente, allora lì arriva poi la parte di spirito critico, di analisi di quello che ti dicono, cioè se uno mi dice che mi fa crescere le ciglia che arrivano a toccare la lente degli occhiali, che uno dice ma a parte che è scomodo, cioè anche un millimetro due in meno va bene, c'era una pubblicità, no non una pubblicità, una confezione, poi l'hanno multato, adesso non c'è più, però fino all'anno scorso c'era di uno shampoo che è di quelli che dice fa crescere i capelli, shampoo, e aveva come disegno sulla confezione un metro, cioè un metro, tu dici ma come ti viene di mettere un metro sullo shampoo, infatti poi l'antitrust le ha multati, adesso hanno tolto il metro e non so cosa hanno messo, però appunto quella roba lì sai quando metti il metro dici vabbè qui esagerato, non crescono queste ciglia, a volte le vedi che sono evidentemente ciglia finte della pubblicità, perché sono così, cioè folte, le vedi e dici vabbè vai a raccontarlo a qualcun altro, è un po' tipo la pubblicità dello shampoo, no? Di qualche anno fa avevi questi capelli, vabbè, lì lo capisci che è esagerato, il punto è quando è un po' meno, no? Un po' meno di esagerato. Torniamo a penetrare nella pelle, insomma tutto… Esatto, e tutte queste cose qui che sono un po' scientifiche, un po' che ti fanno, te la raccontano, no? Allora lì che serve accendere un po' lo spirito critico, alzare il sopracciglio e dire aspetta, cosa vuol dire? Antirughe sì, ma come? Cellulite? Vediamo, no? Tutte queste cose qua. Ma ridendo e scherzando… Non abbiamo detto niente del libro, non abbiamo detto niente del libro, ma possiamo entrare anche più nel dettaglio del libro, ma possiamo anche chiedere a voi se avete delle domande da fare, credo che ci sia un microfono, non lo so, ma se no sentiamo anche direttamente. E nel frattempo, mentre ci pensate, non vedo ancora mani alzate… Sì, tu dici parliamo anche del libro, di che cosa… No, no, non lo so, ma anche… E di che cosa… Allora lui c'ha sta cosa che i libri non li legge, i miei libri non li legge. Ho preso tutti gli appunti… Oggi mi ha detto, ti faccio le domande che sono sulla quarta di copertina… Ah, giusto, giusto, che diceva… e lei non sapeva che c'erano le domande in quarta di copertina… Ma non lo so neanche adesso… A parte le battute, c'è una cosa che mi piacerebbe chiederti, ma secondo te che differenza c'è tra un deodorante e un antitraspirante e quale dovrei usare per le mie esigenze? Davvero ho scritto quella roba lì nella quarta di copertina… Se chiedi a Gribaudo l'ho scritto… L'ho scritta loro, le quarte di copertina ne scrivono loro, davvero vuoi che parli di deodoranti? E parliamone. Perché senti… ce n'è bisogno? No! No? Perché non è gentile da parte tua. No, però su sta cosa di deodoranti… Come mai non ce n'è bisogno? Perché insomma… Su sta cosa di deodoranti è un po' il discorso che facevamo prima, la parte che nel libro spiego… sapete che esistono… sono due categorie diverse. Deodoranti e antitraspiranti. Deodoranti e antitraspiranti, che agiscono su due aspetti diversi del sudore, la quantità, la scella pezzata proprio, e la puzza, perché il sudore non puzza di suo, esce in odore, diciamo così, puzza nel momento in cui i batteri che vivono sull'ì, sotto le nostre ascelle, sopra le nostre ascelle, si mangiano il sudore e producono degli scarti che sono appunto puzzolenti, più o meno a seconda della popolazione di batteri che abbiamo sulla nostra pelle. Quindi esistono due categorie di prodotto, spesso possono essere anche fuse in un'unica categoria, e sono… da una parte agiscono sulla quantità di sudore prodotto, quindi sono gli antitraspiranti, e invece i deodoranti, propriamente detti, agiscono sulla puzza. I primi, gli antitraspiranti, sono quelli con l'alluminio, detta proprio dritta, con i sali di alluminio. Quindi quando vedete senza alluminio, è difficile che poi funzionino per bloccare, o comunque ridurre la quantità di sudore. E solo l'alluminio oppure quando c'è senza alluminio perché c'è qualcos'altro che sostituisce, perché è tipo olio di palma? Allora è difficile, ci sono altri sali, però funziona molto, cioè alla fine serve l'alluminio. E questi sali d'alluminio, a contatto con il sudore, con il liquido, producono una gelatina, tipo, che tappa un po' i dotti delle ghiandole sudoripare, e quindi fa uscire meno sudore. Questo è l'antitraspirante. Il deodorante invece agisce a vari livelli, coprendo la puzza, quindi mettendo del profumo. Mughetto. Mughetto compatibile con la pelle, insomma poi c'è chi ci riesce più meglio e chi peggio. Agendo in maniera antiodorante, cioè ci sono delle sostanze che legano, perché noi sentiamo la puzza, perché dalle nostre ascelle o dalle ascelle dei vicini, queste sostanze, queste molecole puzzolenti sono volatili, quindi si staccano dalla pelle, volano e raggiungono il naso nostro o dei vicini. E quindi ci sono due strategie, su me sono bellissime. Una di aggrapparsi a queste sostanze odorose e tenerle lì, cioè non farle, dargli tipo una zavorra, no? Una roba. Quindi tu in realtà la puzza ce l'avresti, però i vicini non la sentono perché non sono volatili. La seconda strategia, che è ancora migliore, è di mettere dentro al deodorante delle sostanze che vanno a legarsi ai nostri recettori olfattivi negli stessi siti di quelle sostanze puzzolenti. Quindi tu puzzi, le sostanze volatili si diffondono, ma non le sentono i vicini perché? Perché c'hanno sta roba che gli tappa i recettori olfattivi. Che parte sempre da te, il tuo deodorante che arriva prima e va a occupare. Cioè arriva lì e tappa la cosa, cioè sono veramente… Cioè uno dice lasci, non funziona, non funziona. Cavolo, sta roba funziona, questa è scienza, no? Sta roba funziona bellissima e funziona in questo modo. La cosa del… i deodoranti creano sempre un sacco di paranoie, no? Perché bloccano il sudore, se blocchi il sudore allora muori, no? Ti si innalza la temperatura. Uno dice, a parte che te lo metti lì, non su tutto il… Noi sudiamo da tutto il corpo e non solo dalle ascelle, per cui al massimo riduci un pochino da lì, ma poi ti esce dai piedi lo stesso, cioè dappertutto. Quindi vabbè, nessuno muore per aver usato il deodorante, essersi surriscaldato tipo pentola a pressione, cioè… E però poi c'è anche tutta l'ansia per l'alluminio, che appunto penetra, fa venire i tumori. E quello penetra davvero un po'? L'alluminio un pochino penetra, però in realtà appunto molto poco. Hanno fatto questi esperimenti con l'alluminio radioattivo, questi poveri cristi che si sono un attimo prestati e si è visto che quello che va in circolo è talmente poco che non dà nessun problema di tipo salutare. E poi hanno fatto degli esperimenti specifici per vedere la correlazione con i tumori, insomma, quindi quella roba lì è totalmente esclusa. Ovviamente nel momento in cui viene lanciato un allarme, puoi smontarlo, è più difficile, ti rimane sempre un po' il dubbio. Non dici vabbè, ma sai che c'è? Quella roba lì, tant'è che molte persone usano l'allume di rocca o quel sasso che si compra, che sono sali di alluminio. Anzi, è un sale, è un cristallo di sali di alluminio e funziona proprio per quello. E però a me è capitato, ho fatto un video dove ho raccontato sta roba e la gente, ah ma io uso, io non voglio videoodoranti con l'alluminio, io uso l'allume di rocca. Eh ma è alluminio? No ma è un sasso, ho capito, è un sasso di alluminio. Cioè è un coso di alluminio. E però c'è questa idea che una cosa la spruzzi o comunque te la spalmi, l'altro è un sasso. E' naturale l'altro. E' naturale in più, è un sasso per cui non c'è l'idea che dal sasso, non è un sasso, un cristallo, comunque da quella roba lì si staccano delle cose che vanno a infilarsi nei tuoi dotti, delle ghiandole sudoripare e ti creano una gelatina. Cioè non abbiamo questa idea, però dici boh si consuma e quindi no. E quindi se si consuma da qualche parte quella roba lì dovrà andare. Per cui insomma boh mi piace un po' e nel libro, insieme agli schemi, tutte le cose, ci sono anche queste cose qui che cercano un po' di smontare alcuni di questi miti duri a morire. Grazie. 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 Grazie a tutti